Ciao, benvenuto nel mio canale YouTube a quale ti invito ad iscriverti per non perderti tutti i prossimi video in uscita. Il matrimonio tra Rossella e Riccardo si avvicina, ormai manca sempre meno a questo evento, ma tanti fan di Imposta al Sole si stanno chiedendo se effettivamente questo matrimonio ci sarà o se salterà a causa di nunzio. Le prossime puntate che vedremo ci saranno dei piccoli colpi di scena perché dalle anticipazioni che ci sono già in giro sul web ti raccomando guarda sempre la puntata perché così non avrai dubbi e sarei sicuro che con l'anticipazione è corretta. C'è già qualche anticipazione che gira che ci dice che nelle prossime puntate che vedremo Rossella e Nunzio saranno molto vicini, quindi li vedremo stare a stretto contatto dopo che per tanto tempo soprattutto Rossella ha cercato di evitare Nunzio. Dopo che c'erano stati dei baci tra loro due, Rossella aveva preferito appunto evitarlo per non ricadere di nuovo in tentazione. Però a quanto pare ora i due personaggi cominceranno a avere a che fare e l'abbiamo visti anche nella puntata di ieri, Rossella che era arrivata al caffè Vulcano dicendo che l'ha rimasta a piedi, che la macchina non partiva e che sicuramente sarebbe arrivata in ritardo al lavoro. E Nunzio sentendo insomma questo problema di Rossella si è offerto di accompagnarla in moto e così lei anche se inizialmente era un po' dubbiosa avrebbe preferito evitare, alla fine accetta il passaggio di Nunzio. E così i due sono partiti in moto e arrivati lì davanti all'ospedale, i due hanno scambiato due chiacchiere e sembravano molto, come possiamo dire, molto contenti ecco di essersi ritrovati dopo tanto tempo, di scambiare due parole come ai vecchi tempi. E Nunzio a un certo punto ha fatto anche un complimento a Rossella e qui c'è stato un po' di imbarazzo tant'è che poi a certo punto Rossella ha detto va bene adesso è meglio che vada perché sennò tutta questa corsa che avevamo fatto non è servita niente perché sennò arrivo lo stesso in ritardo. E sempre dalla puntata di ieri purtroppo c'è stata questa aggressione ai Dani di Nunzio che è stato aggredito da tre ragazzi che erano andati a Caffè Vulcano dove hanno creato dello scompiglio, hanno cominciato a infastidire appunto all'interno del locale e proprio quel momento è arrivato Nunzio e è riuscito a farli andare via. Però purtroppo questi ragazzi hanno aspettato Nunzio fuori dal locale e qui l'hanno aggredito. Dalle anticipazioni sappiamo che Rossella sarà molto vicino a Nunzio e ci sarà una scena in particolare nella quale Riccardo vedrà appunto Rossella molto molto vicino a Nunzio e questo darà fastidio a Riccardo che mostrerà tutta la sua gelosia e ci sarà anche una discussione con Rossella appunto per questo motivo, per colpa di Nunzio. E però io voglio chiederti secondo te chi sceglierà Rossella tra Nunzio e Riccardo? Ovvio lei adesso ha scelto Riccardo che insomma gli ha detto sì quindi vuole sposarlo. Però qui le cose secondo me cominceranno un po' a cambiare o perlomeno Rossella potrebbe cominciare ad avere altri dubbi perché c'è sempre in sottofondo questo Nunzio che gira e che ogni tanto esce fuori e Rossella a quanto pare non gli è indifferente. Scrivi secondo te come andrà a finire, se Rossella alla fine sposerà Riccardo o se deciderà di stare con Nunzio. Scrivi tutto nei commenti che ti leggo molto volentieri, iscriviti al mio canale YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!